Su richiesta del sindaco di Casteltermine, Noccio Sapia, coordinatore dei sindaci agrigentini gestiti a Girgenti Acque, si smolto a Palermo un incontro con l'assessore ai servizi di pubblica utilità, Vania Contrafatto, per discutere delle problematiche relative al percorso amministrativo da attuare per raggiungere l'obiettivo del ritorno in mano pubblica della gestione del servizio idrico integrato. Oltre a Sapia, che ha introdotto i lavori, erano presenti in delegazione i sindaci di Licata Angelo Cambiano, di Grotte Paulino Fantauzzo, di Racalmuto Emilio Vessana, di Sambuca di Sicilia Leo Ciaccio, di Montevago Impastato e gli assessori Fontana per il comune di Agrigento Cognata ed il segretario comunale Carmelo Burgio per il comune di Sciacca. Tutti e 27 i comuni della provincia hanno già approvato in unanimità un documento unitario contenente un protocollo di intesa di impegno a dare vita alla costituzione di subambiti per la gestione diretta e pubblica dell'acqua, seppure in forma associata. Dalla delegazione, nel ribadire i contenuti del documento, ha posto l'accento sulla necessità che il governo regionale emani entro i termini, i decreti di individuazione degli ambiti territoriali e quello relativo alla formazione della commissione tecnica a cui affidare il compito, come previsto dall'articolo 12 della legge regionale 19 del 2015, di analizzare le inadempienze del gestore privato del servizio e individuare soluzioni immediate per calmirare le tariffe. In più, sono stati richiesti chiarimenti su alcuni punti della nuova legge che si prestano a dubbi interpretativi. La delegazione dei sindaci, nel concludere l'illustrazione delle richieste, ha sottolineato che comunque, entro 90 giorni dell'entrata in vigore della legge, si provvederà ad approvare la delibera con cui gli enti locali manifesteranno chiaramente la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 5,6 nuova legge, cioè di assumere la gestione del servizio idrico in forma esclusivamente pubblica. L'assessore Contrafatto ha dichiarato che ha lavoro una commissione tecnica interna con il compito di relazionare in merito alla delimitazione degli ambiti territoriali e per fornire assistenza e chiarimenti ai comuni circa le questioni tecniche riguardanti la costituzione dei subambiti, assicurando anche che verrà seguito un modello partecipativo a comuni assessorato per evitare di porre in essere atti amministrativi ritenuti potenzialmente viziati. Su invito dell'assessore, infine, la delegazione degli amministratori farà pervenire un elenco di specifici quesiti a cui l'assessorato dà la risposta. Intanto la delegazione, a conclusione dei lavori, ha deciso di convocare a breve un'apposita riunione tra tutti i sindaci per definire una proposta da inserire in delibera che individui sin da subito la delimitazione dei subambiti sulla base di criteri improntati ad economicità ed efficienza del servizio. In ogni caso, l'intero ITER, hanno assicurato i sindaci, sarà concluso in tempi brevissimi.